Il 12 marzo 1913, Padre Pio trascrive per il suo direttore spirituale una sconvolgente visione che ha avuto, nella quale Gesù diceva Con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore dagli uomini, sarei stato meno offeso da costoro se l'avessi amati di meno, mio padre non vuole più sopportarli. Gesù lamenta il tradimento delle anime da me più predilette. Dice che è lasciato solo nelle chiese, che non si parla mai di questo sacramento di amore. Il mio cuore è dimenticato, nessuno si cura più del mio amore. E poi pronuncia parole drammatiche sugli ecclesiastici. La mia casa è divenuta per molti un teatro di divertimenti. Anche i miei ministri che io ho sempre riguardato con predilezione, che io ho amato come pupilla dell'occhio mio, essi dovrebbero confortare il mio cuore colmo di amarezze. Essi dovrebbero aiutarmi nella redenzione delle anime. Invece, chi lo crederebbe? Da essi debbo ricevere ingratitudini e sconoscenze. Vedi, figlio mio, molti di costoro che, a questo punto il padre dice che Gesù fu preso dai singhiozzi, che sotto ipocriti sembianze mi tradiscono con comunioni sacrileghe. Infine, padre Pio trascrive queste vertiginose e sconcertanti parole di Gesù. Figlio mio, ho bisogno delle vittime per calmare l'ira giusta e divina del padre mio. Rinnovami il sacrificio di tutto te stesso e fallo senza riservatezza alcuna. Il sacrificio fu subito rinnovato con trasporto, ma il successivo 7 aprile il padre riferisce al direttore spirituale una nuova, grande e apocalittica visione che va trascritta e letta attentamente, perché contiene il primo preannuncio della missione a cui padre Pio è chiamato. Dunque, gli appare ancora Gesù malconcio e sfigurato, che gli mostra una grande moltitudine di sacerdoti e diversi dignitari ecclesiastici. Perché Gesù soffriva tanto? Il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti, ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo e allorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore, osservai due lacrime che gli solcavano le gote, si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando macellai. E rivolto a me disse Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di tre ore, no, io sarò per cagione delle anime da me più beneficate, in agonia sino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire. L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana, ma, oimè, mi lasciano solo sotto il peso della indifferenza. L'ingratitudine ed il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. Oimè, come corrispondono male al mio amore, ciò che più mi affligge che costoro al loro indifferentismo, aggiungono il loro disprezzo, l'incredulità. Quante volte ero lì per lì per fulminarli, se non ne fossi stato trattenuto dagli angeli e dalle anime di me innamorate. Gesù continuò ancora, ma quello che disse, racconta padre Pio, non potrò già mai rivelarlo a creatura alcuna in questo mondo. Questa apparizione mi cagionò tale dolore nel corpo, ma più ancora nell'anima, che per tutta la giornata fui prostrato ed avrei creduto di morirne se il dolcissimo Gesù non mi avesse già rivelato. Qui padre Pio lascia la frase in sospeso, con i puntini finali, ma la logica del discorso fa ritenere che Gesù gli abbia rivelato che avrebbe dovuto vivere molto a lungo, evidentemente per portare a compimento una missione. Quale missione? Poco prima c'è la riservatezza del padre su un segreto che non potrà rivelare a creatura alcuna, ma che è ovviamente attinente alla drammatica situazione presente e futura della Chiesa. La coerenza del tutto, dunque, fa ritenere che qualcosa di indicibile, di apocalittico, accadrà alla Chiesa, soprattutto al sacerdozio, alla gerarchia, e che padre Pio è chiamato a una lunga missione per mostrare il vero volto del sacerdozio in un tempo tenebroso. Infatti, subito dopo, padre Pio aggiunge un suo pensiero. Gesù purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine. Quanti disgraziati nostri fratelli corrispondono all'amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte nell'infame setta della massoneria. Preghiamo per costoro. È stupefacente che una simile visione, sia pure citata nelle varie biografie, non venga considerata storicamente, non venga spiegata. L'apparizione di Gesù tutto piagato, che grida macellai all'indirizzo degli ecclesiastici, non è certo qualcosa di banale o da mettere a margine. È qualcosa su cui meditare attentamente. Il lamento di Gesù sui miei ministri ricorda quello che lo stesso Signore farà con Suor Lucia, la veggente di Fatima, nell'apparizione dell'agosto 1931, dove, riferendosi al rifiuto della gerarchia di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, come richiesto dalla Vergine per far terminare la persecuzione staliniana, Gesù pronuncerà queste terribili parole. Il segreto che Padre Pio afferma di dover custodire sembra riguardare, dunque, eventi futuri e agghiaccianti relativi alla Chiesa. Eventi analoghi saranno manifestati dalla Madonna stessa, i tre pastorelli di Fatima, il 13 luglio 1917. Nella seconda e nella terza parte del segreto, molti elementi fanno ritenere, infatti, che anche la parte del terzo segreto non ancora rivelata, verta su questa profezia. Resta da capire se e quanto si tratti della stessa cosa, ma disponiamo di una testimonianza secondo la quale Padre Pio ha esplicitamente detto a nostra figlia spirituale «Io conobbi subito tutto il segreto di Fatima». Qui va sottolineato che ciò che effettivamente si è verificato dopo, e si sta ancora verificando ora, avvalora quelle profezie. Per esempio, il tentato stravolgimento della Santa Messa, che, come vedremo, è il cuore della fede, e la colossale crisi del sacerdozio esplosa dopo il Vaticano II. Nel delirio post-conciliare, l'intolleranza clerico-progressista riuscì a far credere che fosse stata messa al bando addirittura la tradizionale liturgia della Chiesa, di origini apostoliche, e nelle Chiese si perpetrarono abusi liturgici oltre il limite. Benedetto XVI, infatti, ha denunciato deformazioni della liturgia al limite del sopportabile. Fu quello il tempo di una spaventosa apostasia di fedeli e di un'apocalittica crisi del clero. Dal 1964 al 2004, circa 70.000 sacerdoti abbandonarono l'abito. Ad essi sarebbero da aggiungere 107.600 monache e suore che lasciarono le loro congregazioni fra il 1966 e il 1988. Oggi poi sono scoppiati nuovi drammi e il crollo della fede sembra un fenomeno planetario. Tanto che il Cardinal Ratzinger, nella storica Via Crucis del Venerdì Santo del 2005, usò espressioni terribili, assai simili a quelle scritte da Padre Pio nel 1913. Già nella prima stazione Ratzinger faceva riferimento al tradimento di Pietro. Quante volte abbiamo anche noi, diceva Ratzinger, quante volte abbiamo preferito, quante volte anche noi abbiamo preferito il successo alla verità, la nostra reputazione alla giustizia. Dona forza nella nostra vita alla voce sottile della coscienza, alla tua voce, Signore. Guardami come è guardato Pietro dopo il rinnegamento. Poi il Cardinale denunciava come la cristianità, stancatasi della fede, abbia abbandonato il Signore in questo nostro tempo. E dopo aver accennato alle devastazioni delle ideologie, si chiedeva Non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa, a quante volte si abusa del santo sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra, quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui, quante volte la sua parola viene distorta e abusata, quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote, quanta sporcizia c'è nella Chiesa e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui, quanta superbia. Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna della suo corpo e del suo sangue è certamente il più grande dolore del Redentore. E ancora Signore, spesso la Tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti, con la nostra caduta ti trasciniamo a terra e Satana se la ride, perché spera che non riuscirai più a rialzarti, tu però ti rialzerai. Il futuro Papa affermava che proprio in quest'ora della storia viviamo nell'oscurità di Dio e poi citava quell'apocalittico versetto del Vangelo di Luca che citò Paolo VI in riferimento al nostro tempo laddove Gesù si chiedeva ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Il testo della Via Crucis faceva un riferimento abbastanza chiaro alle parole della Madonna Fatima alla fine il mio cuore immacolato trionferà infatti sotto la croce i discepoli sono fuggiti ella non fugge e la sta lì con il coraggio della madre con la fedeltà della madre con la bontà della madre con la sua fede che resiste nell'oscurità sì, in questo momento Gesù lo sa troverà la fede c'è l'eco delle parole che la Madonna disse a Santa Caterina Laburé nel 1830 parlando del nostro tempo il momento verrà il pericolo sarà grande si crederà tutto perduto allora io sarò con voi in base ad alcune testimonianze da oltretevere ad altri indizi il testo di quella straordinaria Via Crucis concordato fra il Papa Morente e colui che sarebbe stato il successore fu probabilmente un modo per rendere nota la parte ancora inedita del terzo segreto di Fatima che il Vaticano si era impegnato con su Lucia a rendere noto subito dopo la sua morte in effetti la veggente muore il 13 febbraio 2005 e il 25 marzo viene adempiuto questo impegno si trova poi una straordinaria conferma di questa ricostruzione nel libro autobiografico di Ali Akka dove l'attentatore rivela due battute del colloquio avuto con Giovanni Paolo II in carcere il 27 dicembre 1983 quando sarà rivelato il terzo segreto di Fatima chiese Akka e il Papa il terzo segreto di Fatima sarà rivelato dopo la morte di Suor Lucia quel libro è uscito nel 1996 e questo reso conto a tutte le caratteristiche dell'autenticità ecco perché assume un significato enorme la missione affidata a Padre Pio chiamato a diventare il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa ma andiamo con ordine torniamo al 1913 a quei mesi del 1913 in giugno Padre Pio scrive a Padre Benedetto Gesù mi fa vedere come in uno specchio tutta la mia vita futura non essere altro che un martirio poi aggiunge che certe volte sono portato fuori di me stesso e allora il Signore suole farmi la grazia di scoprirmi alcuni segreti che mi rimangono sì impressi nel fondo dell'anima che non se ne possono più cancellare Padre Pio in questi mesi sempre più saldo e appassionato come lo sta forgiando la pedagogia divina descrive così a Padre Agostino la condizione del suo cuore unico desiderio sulla terra di contentare l'oggetto amato si sente morire dal desiderio di essere da lui amato si sente di essere pronto a sacrificare la vita se si potesse sperare con tal sacrificio di rendersi più grati ai sui o il 20 aprile 1914 manifesta a Padre Agostino il suo appassionato desiderio che tutti conoscano e corrispondano all'amore di Cristo non vi nascondo le strettezze che prova il mio cuore nel vedere tante anime che vanno apostatando da Gesù e quello che più mi fa ghiacciare sangue intorno al cuore si è che molte di tale anime si allontanano da Dio fonte di acqua viva per il solo motivo che si trovano esse digiune della parola divina le messi sono molte gli operai sono pochi chi dunque raccoglierà le messi nel campo della chiesa che sono ormai tutte imminenti alla maturità andranno esse disperse sul suolo per la paucità degli operai saranno esse raccolte dagli emissari di Satana che purtroppo sono moltissimi ed assai attivi a non permetta mai il dolcissimo Dio si muova a pietà dell'umana indigenza che sta diventando estrema il 4 maggio per la prima volta si manifesta la prospettiva di una catastrofica guerra era stato Padre Benedetto a chiedergli di interrogare il Signore sulle nubi che sembravano addensarsi sul mondo Padre Pio risponde duolmi non potervi appagare nella giustissima vostra domanda Gesù non vuole che ne facessi parola preghiamo con fiducia il Padre Celeste per il buon esito perché le cose si vanno piuttosto imbrogliando e se Lui non vi pone rimedio l'affare andrà malissimo non meritiamo i divini aiuti avendo noi volontariamente gli scacciato dal nostro cuore l'ammabilissimo Gesù e chiuse abbiamo perfino le finestre al Divin Sole per non sentirne i benefici effetti dei coscienti raggi ma ci sia almeno permesso sperare nella infinita provvidenza divina tuttavia di lì a poco Padre Pio saprà che gli eventi umani hanno imboccato la direzione peggiore Padre Agostino da San Marco e Lamis testimonia nel suo diario di essere stato presente a un estesi di Padre Pio a Pietrelcina prima dello scoppio della grande guerra nel 1914 diceva al Signore mio Dio quanto sangue salvaci Signore da tanto disastro ah tante colpe è necessario venga pure la prova ma salva le anime Padre Pio che pure fu richiamato alle armi seppe un mese prima dell'entrata in guerra dell'Italia della tragedia che si preparava e la sua ragione in non aver voluto ascoltare l'accorato grido d'amore del Santo Padre Pio X infatti Gesù Gesù stesso gli rivela che l'Italia entrerà in guerra Padre Pio lo riferisce nella lettera del 21 aprile 1915 a Padre Benedetto stamane è venuto Gesù e mi ha detto l'Italia figlio mio non ha voluto ascoltare la voce di amore sappi intanto che da tempo io tengo sospeso il braccio del mio genitore che vuole scagliare su questa figliola adultera i suoi fulmini si sperava che le sventure altrui l'avessero fatta rientrare in sé l'avessero fatta intonare il miserere a suo tempo non ha saputo apprezzare neppure quest'ultimo tratto del mio amore ed è per questo che il suo peccato è divenuto più abominevoli denanzi a me a lei pure e serbata certamente quella sorte toccata alle sue consorelle questo testo che ho letto è tratto dal libro di Antonio Socci Segreto di Padre Pio edito dalla Rizzoli nel 2007 dalle pagine 71 alla pagina 82 di Padre Pio